Oggi alle 12 scadevano i termini per la presentazione delle liste, naturalmente quelle relative alle elezioni regionali, che si terranno in Abruzzo il 10 marzo, dunque esattamente tra un mese. Le liste sono state tutte depositate e dunque la campagna elettorale adesso può entrare nella sua fase più calda. Per le liste nessuna sorpresa dell'ultima ora, i candidati alla presidenza restano due, l'uscente Marco Marsilio per il centrodestra e Luciano D'Amico per il Lappatto per l'Abruzzo. Nelle quattro circoscrizioni sono sei per ciascuno le liste d'appoggio, quindi complessivamente 12. I nomi li trovate tutti sul nostro sito internet, vedete proprio scorrere la notizia, sito che risponde all'indirizzo www.reteotto.it